Colle Forma e Vaio Scuro, due nomi originali che vogliono identificare un territorio e raccontarne la storia. L'area geografica è quella più settentrionale della Ciociaria, caratterizzata da colline e monti dai profili morbidi ma a tratti rocciosi. L'azienda è Terenzi Vini, creata da Giovanni, affiancato dai figli Armando e Pina. Entrambe sono le annate 2011, sono un'annata molto importante. Il Colle Forma è un cesanese del piglio superiore che fa soltanto botte grande. Poi l'abbiamo messo in bottiglia dove ha fatto altri 24 mesi prima di essere messo sul mercato. Mentre il cesanese del piglio riserva Vaio Scuro fa soltanto barrique, quindi ha fatto i suoi 12 mesi in barrique e altri tre anni li ha fatti in bottiglia. L'attaccamento alla terra, alle tradizioni e la passione infusa nel lavoro sono le peculiarità della famiglia di Serrone che mostra orgogliosa i propri vigneti, primo vanto di Giovanni Terenzi. Non è soltanto, dice tu, pianto in vigneto ma è tutto il lavoro dalla botatura al diradamento, al lavoro costante che si fa dando l'acqua ramata, con i prodotti che bisogna stare attenti perché bisogna andare anche adesso un semi biologico come facciamo noi, trattamenti mirati, fatti per bene perché noi ci teniamo alla nostra azienda di portare avanti questo prodotto. Le degustazioni dei vini vengono ottenute in azienda secondo un programma ben preciso. L'azienda è dotata di un punto vendita che è aperto tutti i giorni tranne i lunedì e in più nella nostra sala di degustazione dietro prenotazioni si possono organizzare e prenotare quindi visite in cantina dove facciamo visitare i vigneti per capire proprio da dove viene prodotto il nostro vino e poi alla fine ci rilassiamo nella bella e panoramica sala di degustazione dove possiamo assaggiare le varie tipologie di cesanese che produciamo, la passerina e quindi capirne un po' le peculiarità.